C'è una cosa che per me è fondamentale, è la competenza. Ecco perché mi viene il sangue agli occhi quando leggo di cantautori che fanno le introduzioni ai poeti. Sarebbe come se io andassi sul palco a suonare al posto di De Andrè. Ovviamente lui non me lo permette e io non gli permetto di scrivere prefazioni. Prima abbiamo parlato addirittura di Belù che scrive prefazioni, cose inaudite, ma non per un malinteso elitarismo. Cioè io non mi sognerei di togliere un molare, per questo non accetto le poesie del neodentista. Cioè è un fatto di studio, io studio letteratura da 40 anni, quindi posso parlare letteratura, magari male, va da sé. Ma certamente non posso occuparmi di odontoiatria. E invece oggi abbiamo Vespa che scrive romanzi, Irene Bignardi che scrive poesie, Ale, todos caballeros, come si diceva una volta.